La Gradara per le giornate del sabato 6 e domenica 7 ottobre si trasforma in chiave storica con due giornate dedicate a istoricamente. Istoricamente il gioco nella storia e la storia in gioco, quindi se a Gradara si parla di storia mi sembra una cosa scontata ma anche di gioco perché già in passato Gradara era famosa per Gradara Ludens e tuttora ricopre un ruolo importante per le attività didattiche legate alla scuola. Quindi questo concetto, questo binomio di storia e di gioco si sposa molto bene e nasce da un'idea di Gradara in nuova. La cosa importante di queste due giornate sono anche che questo istoricamente si lega alla festa della storia internazionale con l'Università degli Studi di Bologna. Anche questo quindi dà un rilievo e una valenza appunto maggiore a questo progetto. La giornata di oggi, quindi sabato 6 ottobre, è legata a un seminario con operatori del settore, cioè dedicati alla didattica, alla storia, insegnanti da tutta Italia. Mentre la giornata di domani, cioè di domenica 7, è legata proprio all'attività didattiche e laboratorie. Per cui tutto il borgo si trasforma in chiave storica, scientifico e ludica. Infatti è stata creata una piantina, non so se si può far vedere, apposta con tutte le varie location e collegate alle attività didattiche. In questo mi preme ringraziare il Comune di Gradara che ha appoggiato e patrocinato l'iniziativa. Le varie associazioni di Gradara, comprese la Corte Malatestiana, Giogra, Giona, la Proloquo soprattutto. E il coordinamento poi di Gradara Innova, quindi Maria Elisabetta Pesci e Benvenuti Sara, che hanno veramente formato il fulcrocio di questo tipo di progetto. È un'iniziativa che noi come amministrazione comunale sosteniamo e condividiamo con Gradara Innova. Nel senso che l'amministrazione ha intrapreso già da tempo questo percorso della didattica legata al gioco. Viviamo in questo borgo storico, per cui si vive immersi nella storia, ma nello stesso tempo noi vorremmo che ogni turista, ogni persona che visita Gradara si ritrovi, ne esca un po' arricchito, nel senso che non ci sia solo la visita al borgo, che è già di per sé molto bello, ma ci sia anche l'occasione per avere degli stimoli nuovi, degli arricchimenti culturali. Ogni iniziativa culturale ha un qualcosa di turistico, nel senso che noi speriamo che porti, che spinga le persone a visitare il borgo, e ogni iniziativa turistica ha comunque un retroterro, uno sfondo culturale. La didattica e la storia è proprio il culmine di questa idea, perché la Gradara è visitata da decine e decine di scolaresche per tutta la primavera, per tutto l'anno anzi, e qui abbiamo veramente un laboratorio all'avanguardia sulla didattica della storia.